Oggi è il giorno dove conosciamo i campioni, dove si vive. Quelli che parlano bene dicono il giorno clou, la giornata clou. Esatto, la giornata clou, fatta con tantissimi ospiti che conosceremo tra pochissimo. Molto giustamente trovo, l'organizzazione della Castagna d'Oro ha pensato e pensa in realtà sempre di più, lo fa ogni anno ma con più intensità secondo me quest'anno, anche a quelli che sono i figli di questa terra, quelli che si sono formati qua, hanno sviluppato la loro professionalità, hanno sviluppato le loro competenze arrivando ai massimi livelli. E allora qui abbiamo una serie di persone che vado subito a nominare, li pregherei di uscire e poi li presentiamo meglio però nel corso della mattinata. Allora, un grande applauso per Paolo De Florian, che qui penso che tutti quanti conosciate. Un grande applauso per Matteo Ponato. E andiamo in ambito medico, ne avrei un po' bisogno perché sono un po' febbricitante. Anch'io. E tu per altre ragioni legate proprio tra l'altro alla sua specialità. Matteo Guelfi. Allora, vedete ancora una sedia, no? Sì. E noi siamo qua a fare un po' gli sciocchi, no? Ci riesce anche molto bene a fare gli sciocchini, eccetera. Ma noi abbiamo da questa parte delle sedie tre persone che invece preparano questi successi e rimangono sempre un po' dietro, no? Delle telecamere, delle interviste, eccetera. E invece, giustamente, come dicevamo all'inizio, il Galà della Castagna non scorda assolutamente i propri figli della propria terra. Cioè che sono partiti da qua. Perché tutti e tre questi signori hanno un forte legame con il territorio del Mondolè. Io comincio subito, quindi, da Paolo De Florian, che in realtà tu sei di Manta, Saluzzo, no? Se non sbaglio. Però, in pratica, hai cominciato la tua carriera anche come atleta sulle piste del Mondolè, praticamente. In realtà, dalle note, leggo che a 18 mesi avevi gli sci ai piedi per gioco a Crissoro, Piammune, da quelle parti. Che non è così distante da qua, no? Poi, la carriera di Paolo è fulminante, è molto bella, anche perché passa attraverso degli insegnamenti del papà Cesco, che ricordiamo tutti con grandissimo affetto, un atleta di alto livello. Diventa, grazie, fa molto piacere, diventa subito vice allenatore della squadra regionale maschile, se non sbaglio, con Ravetto, poi squadra regionale femminile e stagione 2008-2008 e 2009, ulteriore passo avanti, nazionale junior. E in questa stagione stessa di cui parliamo hai compiuto praticamente il salto di qualità. Cioè, ci sono le partecipazioni alla Coppa Europea, due medaglie al Mondiale e allenare nomi come Federica Brignone, Elena Curtoni e altri. Allora, Paolo, si parte dal territorio per riuscire ad arrivare a questi livelli, tenendo però nella scatola della memoria, nel cassettino della memoria, che cosa? Si arriva con l'esperienza fatta da ragazzo e quindi con tutto il percorso che uno fa per provare a diventare un atleta di alto livello e poi non ce la fanno tutti e quindi bisogna prendere delle decisioni e una di quelle, nel mio caso, è stata quella di virare dall'altra parte e di rimanere nell'ambiente, però dalla parte dell'allenatore. Probabilmente è vero che se uno è stato un grande atleta diventa anche un grande allenatore e abbiamo degli esempi seduti qui di fianco. È anche vero che magari uno che da atleta è arrivato fino a un certo punto, però la motivazione era molto alta, riesce a portarla dall'altra parte e quindi ad avere la motivazione di trasmettere a qualcun altro quello che magari voleva provare a fare lui. Quindi è questo, è il mio caso, quindi quello che non sono riuscito a fare da atleta ho provato a farlo da allenatore. Beh, mi sembra con risultati. E allora, dopo lasceremo lo spazio alle domande anche dei colleghi, ma ti vorrei chiedere questo, se, sport numero uno in Italia è il calcio, no? Ok? Se tu fossi un allenatore di calcio vorrei chiederti quale panchina, nel mondo dello sci ovviamente, tu vorresti, in quale panchina vorresti sederti? Beh, chiaramente l'aspirazione di tutti è quella di sedersi sulla panchina della nazionale, credo anche nel mondo del calcio dove comunque forse anche il lato economico da una parte e le motivazioni non vanno proprio di pari passo, quindi però credo che la panchina della nazionale anche in quell'ambito lì sia quella delle più ambite. Devo dire che se devo rapportare la mia, cioè quello che faccio io nello sci a quello che può essere il calcio, sicuramente non è ancora una delle squadre di alto livello, ma è una di quelle che lottano per qualcosa su cui bisogna lavorare, possono avere del potenziale, ma non sono ancora arrivate dove vogliono arrivare. Grazie Paolo De Florian, grazie mille, lasceremo lo spazio ai colleghi. Per passare a Matteo Ponato, il quale dal 2017 è allenatore, se non sbaglio è coordinatore, del settore giovanile e delle squadre nazionali. E poi ovviamente, di nuovo ancora carriera che prosegue, c'è l'impegno, facciamo un passo indietro perché c'è lo Sporting Club Prato Nevoso prima da citare, se non sbaglio. Sì, ho iniziato a sciare nello Sporting Club Prato Nevoso che è sempre stata la mia società da atleta, fino a che poi sono passato nel centro sportivo esercito successivamente. In questo momento la priorità della tua funzione tecnica, ce la spieghi? Sì, io sono il coordinatore del settore giovanile, coordino le attività del settore giovanile. La federazione in questo momento nel settore giovanile sta investendo molto, abbiamo un progetto sia qualitativo che quantitativo, qualitativo perché abbiamo avuto le nostre squadre junior, le squadre C in Sud America e quindi la volontà anche con i giovani di dar loro la possibilità di allenarsi con un livello di qualità molto alto e allo stesso tempo abbiamo allargato molto la base, abbiamo un progetto di osservati che va a coinvolgere i migliori atleti di tutti i comitati regionali, molto ampio che affronta sia le discipline tecniche che le discipline veloci, anche la preparazione atletica, perché abbiamo appunto l'obiettivo di cercare di allargare al massimo la base per non rischiare di perdere atleti forti. Perché stiamo parlando di quale età? Il progetto giovanile, diciamo la categoria giovani in Italia va dai 16 anni ai 21 anni che è proprio la fase determinante per poter valutare, creare, costruire gli atleti del domani. Chiaramente, per concludere, è difficile, è un concetto molto importante che è emerso in questi anni che è molto difficile individuare talenti in età precoce, per cui il nostro obiettivo è cercare di non perdere nessuno, dare l'opportunità agli atleti, chiaramente di livello buono, di potersi esprimere, dare tutte le stesse opportunità in modo da non avere il dubbio di essere arrivati a 19 anni e aver perso per strada qualche atleta forte. Faccio un esempio, tutti si ricordano che quando Paris fece il suo grande risultato in Coppa Europa che a Sarentino, a sorpresa, arrivò sesto, forse se non ci fosse stato quel risultato lì poteva cambiare la tua carriera, è vero? E quindi noi non possiamo rischiare un domani di perdere un Paris, ok? E quindi la federazione si muove in questo senso. Quindi individuazione e sviluppo poi dei talenti. E dove passano i futuri campioni praticamente, no? Assolutamente, però il principio fondamentale, non dobbiamo pensare a 16 anni di averli già individuati, ma dobbiamo essere sicuri di aver lavorato con tutti quelli che ne avevano la possibilità, dandogli un livello di qualità e quantità alto. Grazie Matteo Ponato, grazie mille. E passiamo ad un altro Matteo, Matteo Guelfi, che è un medico, siamo in due oggi ad averne bisogno, lei per un problema al ginocchio e io per un banalissima influenza, ma non è qui per questo ovviamente Matteo Guelfi, il quale legato al mondo del Mondolè, scusate la ridondanza, perché è maestro di sci alla scuola sci a Margueris ad Artesina. Allenatore federale di sci della categoria Pulcini, tra l'altro per Mondolè Ski Team, e ora fa parte dello staff medico della Nazionale di Ski Alpino e ho visto che tu curi in particolare alcune particularità, le ankle, le caviglie, le ginocchia, insomma questi campioni come curarli? Cioè è una cosa difficile da recuperare, dipende ovviamente da ogni atleta. Sì, buongiorno a tutti, beh sì, diciamo che se meno lavoro più sono contenti, sono l'unico che se non fa niente quando è in trasferta sono tutti contenti e nessuno si lamenta perché vuol dire che stanno tutti bene. Chiaramente dipende molto da quando si è in trasferta, io di solito li seguo soltanto nei periodi di gare, meno nei periodi di allenamento e quando si è in gara ovviamente ci sono due problematiche, una è il trauma quindi quando uno cade in allenamento in gara e quindi ha un trauma acuto oppure invece che per fortuna sono meno e poi ci sono invece i classici malanni, la febbre, il malessere e bisogna cercare di supportarli perché siano al massimo della forma per il giorno della gara. Ti è già capitato qualche caso in cui non c'era praticamente se non rimandare gare o dare forfè per alcuni tuoi pazienti? Per fortuna pochi. Porta bene allora, Matteo Guelfi porta bene. Poi sono abbastanza, stringono abbastanza i denti, soprattutto Domi, mi ricordo un paio di volte che è difficile che dicano di no a fare una gara, devono essere proprio capo per rinunciare. C'è una preparazione di tipo medico o delle indicazioni di tipo medico per riuscire ad andare a 160 km all'ora? Beh sì, oltre un po' alla pazzia di cui parlava prima Domi, però sì, sono molto seguiti, fanno una serie di test fisici, atletici durante tutta la stagione, ovviamente anche adesso hanno appena fatto dei test e poi sì, sono ovviamente controllati, fanno degli esami medici di routine periodicamente per vedere che sia tutto a posto e che siano ovviamente in grado di affrontare tutto quello che devono affrontare come allenamento e come gara. Grazie, grazie Matteo Guelfi. Allora, davvero le conclusioni e buona educazione e naturalmente ringraziare tutto il pubblico che ha avuto la pazienza di stare ad ascoltarci, ma ringraziare soprattutto Benedetta Pilato, Vito Donghia, Dominique Dome Paris, e domandete alla francese, Sandro Campagna, grazie, grazie ancora, poi i tecnici Paolo De Florian, Matteo Ponato, il medico Matteo Guelfi e il nostro grande amico della Castagna d'Oro Marino Bartoletti, grazie. Alle 14.30, puntualissimi. Grazie Luisella e buona giornata. Grazie Gianni.